ciao in questo video vedremo come configurare ld micro per inserire direttamente il programma nel microprocessore facendo compile col flash mcu in questo modo lui scrive micro tempo secondo e mezzo fa tutto un passo indietro ti faccio vedere dall'inizio come bisogna fare per scaricare ld micro e avviare dude per poter poi fare una programmazione ld micro lo trovi sul sito principale trovi il link qui sotto in descrizione in ladder logic qui ci sono delle release vecchie bisogna andare su github a scaricare le ultime release quando sei su github avrai la versione 5411 che è l'ultima e scarichi la build 5411 dopodiché scompatti i file in esso contenuti e copi tutti i file in una cartella la chiami come vuoi io l'ho chiamata ladder micro e ci metti dentro tutti i file io ad esempio ho cancellato gli eseguibili delle lingue che non mi interessavano e anche i manuali delle lingue che non mi interessavano questo senza lingua è l'inglese l'italiano è questo con la hit non devi installare nulla basta che le copi dove vuoi rinomini la cartella build 5411 in là del micro giusto per ricordarti che questo è il programma e lanci l'eseguibile cliccando due volte o sul hit o su ld micro e ti si apre il programma in questo modo vuoto ovviamente la prima volta dopodiché per poter programmare il micro controllore direttamente da compile ti serve il programma avvrdudes lo trovi su github ti metto il link in descrizione devi andare qui nelle release l'ultima e scaricare quella del tuo sistema operativo quindi se hai windows a 64 bit sarà questo zip se è un windows vecchio 86 devi scaricare windows x86 con il computer 64 bit devi scaricare questo lo scompatti ci sono dentro tre file e anche questi li copi in una cartella dove vuoi che poi ld micro andrà a cercare per fare la programmazione questo qui lo puoi anche lanciare la riga di comando con dei comandi particolari per configurare ld micro ad usare avvrdudes bisogna andare nella cartella che abbiamo visto prima della del micro e andare editare il file che si chiama flash mcu.bat che infatti è il file che chiama quando vai qui in compile col flash mcu lo guardiamo io ho quello old che quello vecchio e quello che ho modificato io e questo li compariamo farti vedere le differenze poi ti metto anche il file da me modificato così in maniera che tu possa vedere dove ho fatto le modifiche prima di tutto gli ho cambiato la posizione perché di default lui vuole di program programmation ladder program test eccetera eccetera qui devi mettere dove l'hai messo tu c due punti slash sarà magari programmi slash avvrdud l'altra cosa da modificare è il tipo di programmatore avvrdud programmer se usi usb asp devi scrivere usb asp così l'altra cosa che ho modificato la velocità e ho tolto questi altri suffissi quindi lasciato b 115 2 comport basta scrivere usb e non più con 5 quindi qualsiasi poi porta lui prenderà lo vedrà connesso questo il comando vero e proprio per fare la programmazione va modificato da così a così quindi il pat che questo avvrdud.exe con tutte le opzioni in questo modo qui e basta così facendo una volta ho salvato il file modificato che lo modifichi con un editor di testa un blocnotes così i parametri del quarzo la frequenza il ciclo di PLC va bene 10 millisecondi che quello standard e aver dato alle porte del micro e dopo aver selezionato le porte giuste del micro assegnate ai vari segnali e vari segmenti e in questo caso l'input è segnato al pin 15 il micro porta pb1 questo qui pb0 pin 8 e così via si può procedere a fare il compile col flash mcu si fa f9 sulla tastiera che è la stessa roba adesso io ho connesso sulla mia usb la via redood connessa alla breadboard che hai visto nel video precedente faccio un f9 come vedi in un lampo lo programma hai anche delle informazioni utili tipo i byte usati nella flash se la verifica è andata a buon fine un bel don thank you premere un tasto per continuare velocissimo e praticissimo questo vale solo per i microcontrollori avr mentre invece per i microchip bisogna passare da un programmatore esterno di salvare l'exe compilarlo e salvarlo anche qui prima di fare il trasferimento bisogna fare il compaio una cosa che mi ero dimenticato di dirti che bisogna fare f5 salvarlo dopo una volta che l'hai salvato non te lo chiede più quindi compaio f5 ti dà questo messaggio di errore che non è un errore è un compile successful ti dice però di ricordarti di configurare fuse quello che hai visto nel video precedente perché il programma non le ha automaticamente scritti i fuse volendo si potrebbero inserire nel file bat ma inutile scrivere tutte le volte si va a programmare il micro fuse si programmano una volta sola con avviare dudas che è questo avviare dudas lo cerchi un google lo trovi subito lo scarichi e anche lui lo stesso modo non va installato basta copiare i file e funziona si seleziona il programmer che hai la tmega o altro microcontrollore e qui ad esempio adesso che è collegato se faccio un read aletti fuse real height real low real extended se volo leggere anche anche questi fuse qui faccio un read e mi dice che il read lock bit gli aletti e hanno valore ff questo qui è il byte select che ti ho fatto vedere qui se come ti ho fatto vedere l'altra volta metto uno lb1 il microprocessore dopo questa programmazione non potrò più programmarlo e diventa un uso egetto diventa una iprom in certi casi è utile a livello industriale si fanno anche queste cose quindi si programmano una volta e poi non devono essere più riprogrammati da nessuno questo video tutto spero che ti sia stato utile per riuscire a programmare velocemente i microcontrollori con ld micro ci vediamo sentiamo al prossimo video sempre su ld micro ciao